Dubai e offshore company. Che cos'è un offshore company? Quando devi prendere in considerazione di incorporare un offshore company a Dubai e quali sono i vantaggi fiscali che puoi portarti a casa ad una struttura estremamente semplice? Te lo dico tra un secondo. Ciao, sono Luca Taglialatela e tu sei sul canale di Taxplending internazionale. Se non l'hai ancora fatto ti invito a cliccare subscribe per rimanere aggiornato con le notifiche del canale e a lasciarmi un like che se non ti sarà piaciuto il contenuto di altissima qualità che sto per regalarti mi leverai alla fine del video. Oggi parliamo di offshore company, ci troviamo non a caso a Dubai che oggi obiettivamente sta prendendo piede sempre di più rispetto a quelli che invece erano le giurisdizioni in un tempo più utilizzate per incorporare un offshore company. E sì perché un offshore company meglio definita perlomeno in passato come IBC, International Business Company, non è altro che una società, una scatola vuota fondamentalmente incorporata in una determinata giurisdizione, in questo caso Dubai, ma che però a Dubai non ha niente, non ha nessun tipo di attività né commerciale né finanziaria. Quindi apro una scatola in un paese per investire, per proteggere, per esercitare attività in altre parti del mondo. Una delle giurisdizioni più utilizzate in passato per questo tipo di attività era il Belize se non Panama. Poi per motivi geopolitici di diplomazia internazionale eccetera eccetera le cose cambiano. Oggi se vuoi aprire un offshore company probabilmente dovresti guardare a Dubai. Come sappiamo anche qui negli Emirati esistono tre tipologie di società o meglio esistono le società da incorporare in mainland che sono fondamentalmente quelle che fanno attività commerciali lato strada quindi per intenderci quelle che trovate all'interno dei mall dove entrate a comprare delle cose materiali per esempio oppure chiaramente banking, finance eccetera eccetera. Poi ci sono le attività delle free zone che sono tanto amate soprattutto dagli imprenditori del digitale che tecnicamente sono a tassazione zero e sono estremamente flessibili e hanno dei costi relativamente bassi. Io immagino che i costi di gestione inizieranno anche a scendere tra l'altro dal 2024 in poi. Le offshore company invece vengono utilizzati per altri motivazioni fondamentalmente o da società immobiliari o da società diciamo o come contenitori di intellectual property rights o da società di distribuzione e logistica o per esempio da varie tipologie di broker. Vengono anche molto utilizzate in realtà anche dalle società di shipping però non c'è un limite alle attività economiche che si possono svolgere per il tramite di una holding quindi va sempre presa in considerazione soprattutto se la si vuole utilizzare per entrare in nuovi mercati. Una volta le holding per entrare nel mercato asiatico si piazzavano ad Hong Kong oggi potrebbe avere più senso utilizzare un offshore company. Le zone all'interno del quale è possibile incorporare una free zone in realtà sono tre quindi la scelta non è esattamente quella dello scaffale del supermercato della pasta. Abbiamo Russell Cayman, Ashman Free Zone e Jebella Lee Free Zone. DFC viene utilizzata per altri motivi diciamo ti rimando a quello che abbiamo detto in alcuni altri video all'interno del canale. Quali sono i sette vantaggi che puoi portarti a casa con offshore company? Li vediamo immediatamente. Numero uno confidentiality cioè il livello di privacy che evidentemente puoi avere tramite una holding company in cui fondamentalmente è possibile anche ricorrere a nomini è elevatissimo. Dopodiché tax advantage è il secondo vantaggio che puoi portarti a casa. Sappiamo che tecnicamente a Dubai non c'è tassazione è vero ma devi anche considerare che una holding company ha altri vantaggi quindi non c'è tassazione sui capital gain, non ci sono withholding tax in uscita sui passive income eccetera eccetera. Numero tre asset protection ma più che altro legal protection cioè qualsiasi tipologia di bega legale fondamentalmente è più che schermata da una società del genere. Numero quattro la possibilità di aprire un conto corrente bancario all'interno degli Emirati arabi uniti che è sempre cosa buona e giusta. Numero cinque easy formation è possibile incorporare una società del genere e magari collegare anche un conto corrente bancario in circa sette giorni lavorativi insomma che è tanta roba. Numero sei easy reporting quindi anche quello che è legato alla manutenzione burocratica amministrativa in termini di libri sociali contabilità e compliance è estremamente semplice e maneggevoli. Numero sette importantissimo 100% foreign ownership quindi è possibile detenere la proprietà di una holding company incorporata in una zona cosiddetta appunto offshore anche se siamo fiscalmente residenti all'est. Io sono Luca Taglialatela ti ricordo che sei sul canale di tax planning internazionale se non l'hai ancora fatto lasciami un like se hai necessità di pianificazione fiscale o di relocation plan qui a Dubai ti invito a cliccare il link in descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video